Buongiorno Summer! Andrò subito all'orto per trovare l'ortaggio giusto! Posso aiutarti? Certo! Non è grande abbastanza! Forse è di qua? No, neanche questo! Non ti preoccupare, Todd! Ce la faremo! Il Super Broccolo sta scappando via! Ho! 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 Grazie a tutti! Tocco! Ottimo lavoro! Pronti per... Il ballo del broccolo! Segui le avventure dell'Allegra Fattoria su YouTube!